Pace a voi, pace del nostro Signore Gesù Cristo e che la pace veramente abbondi i vostri cuori. E sinceramente vi voglio aggiornare di quello che sta succedendo nel mondo in questi giorni. Come ho detto, i miei video sono fatti assolutamente allineati con le profezie e con la Bibbia. E non ho niente da mettere da me stesso perché io non ho nulla da darvi. La bella cosa che vi voglio mostrare è potervi dire che la Bibbia è un vero libro scritto dalla mano di Dio attraverso uomini meravigliosi che Dio ha scelto durante questo grande cammino della Bibbia. Da primo giorno la Bibbia esistita in cielo esisterà sempre ed è la cosa più importante che l'uomo dovrà veramente mangiare di questa parola di Dio, questo pane, perché l'uomo non può stare senza mangiare il pane della parola di Dio perché diventerà fragile, diventerà debole e poi troverà morire in una vita eterna. Ora, adesso vi descrivo esattamente i piani del nemico che lui sta preparando prima che Gesù ritorna. I suoi piani sono che lui vuole distruggere più che può, vuole distruggere case, famiglie, matrimoni, separare mogli dai mariti, separare mariti dai mogli, giochi d'azzardo, acolico, adulterio, ancora droga, la cosa più bruttissima, la droga che ti toglie la vita, giovane, e ancora una cosa molto importante che ogni tre persone, una persona soffre di veramente depressione e di ansietà. Questa è una malattia del secolo. Ogni tre persone, una persona ha il cancro. Ogni tre persone, una persona ha la diabete. Queste sono cose proprio che fanno male di dentro del nostro cuore. E difatti negli ultimi tempi Gesù disse che ci saranno pestelenze, fame, guerre, rumori di guerre, alluvioni, terremoti, isumani, il fiotto, il mare salterà sopra le isole e saranno divorate dal mare. Tutte queste cose, se voi avete la fede in Cristo Gesù, non potete avere nessuna paura. Se avete accettato Gesù come personale salvatore, la cosa più importante è che voi vi preparate per il ritorno di Cristo Gesù. Gesù Cristo ritornerà a fa breve. I tempi sono accorciati. Vedete un poco che già siamo quasi nel mese di dicembre. Un anno è passato come se fosse una settimana e il prossimo anno passerà come se fossero ancora cinque giorni. I tempi stanno a stringere sia per la Chiesa e sia per il diavolo. Il Signore sta stringendo i tempi per non far soffrire la Chiesa. La Chiesa è la sposa di Cristo Gesù. E io non penso che lo sposo la dimentica oppure la negletta per tutti i bisogni che la sposa ha, ma la sta preparando dentro tutte le Chiese e non ci sono denominazioni o religiose o nomi di religione. Gesù sta preparando una Chiesa di cuore che veramente sono umili, sono obbedienti e sono pieni di amore. Ora, se tu hai queste tre categorie, che sei umile, che sei obbediente, e stai mostrando veramente l'amore di Cristo Gesù, tu non ti preoccuperai di quello che sta succedendo oggi in questo mondo. perché succederanno ancora cose più peggiori, ma la tua vita sarà scampata, nemmeno un pello del tuo capo sarà toccato. Un anno addietro, lì in Giappone, a Sendai, gli fu un grande terremoto, un maramoto così terribile, come ho detto nei primi video che ho fatto, attualmente fu il primo video che feci io in questo YouTube. E vi fu veramente una catastrofe così intensa, però, assento avendo contatto con un pastore di una Chiesa abbastanza molto grande lì a Tokyo, lui pregò il Signore che la sua Chiesa non sarebbe toccata, aveva quasi 700 membri, e se il fiotto del mare arrivava a prendere la sua Chiesa, ci doveva essere un disastro, più di 700 molti in più. Ma il Signore ha fermato le acque e non sono arrivate le onde del suo mani dentro la Chiesa. La Chiesa fu risparmiata, il pastore fu risparmiato. E questo vuol dire che noi, figli di Dio, siamo guardati degli angeli. sapete che un angelo solo potrà parare ai più grandi umani che potranno scagliarsi sulla terra se Dio gli dà il comando? Se Dio gli dà il comando e viene una forza terribile di maremoto, forse, nella scala reale, 9, 10, 8, 7, il più minimo, e viene fuori un sumale forse di 10, 15 metri di altezza, un angelo può respingere questa potenza di acqua, un masso di acqua e non fare nessun danno, assolutamente nessun danno. Adesso ascoltatemi bene. nove mesi fa vi era un grande ciclone che in Australia non era stato mai, mai visto. Aveva la forza al centro dell'occhio del ciclone a un vento di 470 km orari e si doveva scaraventare nella città di Cairns in il nord del Cisland e tutte le persone erano fuggite via di quel posto. Migliaia e migliaia di persone avevano abbandonato le case perché per certo quando passava quest'occhio del ciclone dovevano essere tutte le case completamente diraricate dal suolo e messi proprio a piatto come un'atomica bomba o una bomba atomica. Eppure in quella notte alle due e mezza del mattino io non potevo dormire. Pensavo a tutte quelle famiglie anche che qui a Sydney noi non soffriamo di ciclone ma abbiamo anche i nostri temporali abbastanza anche forti fortissimi e io pensavo a queste persone avevo il cuore proprio triste e non sapevo cosa fare pregare gridare a Dio dire al Signore abbi pietà non fa sì che questo ciclone prenda la città di Cairns e altre città e saranno messi a suolo e moltissimi morti ci saranno dentro scusate che mi vengano le lacrime e veramente ho pregato parlando a tu per tu con lo Spirito del Signore sapete Gesù ha orecchie e ascolta anche che tu non lo vedi perché lui è Spirito e verità e non lo vedi però è vicino lì a te e ascolta gli ho detto Gesù devi intervenire tu perché questo peccetto non è da parte tua che viene sulla terra oggi sulla città di Cairns ma questo è sospinto del nemico del diavolo perché vuole distruggere tu non sei venuto per distruggere Gesù sei venuto per edificare per salvare per guarire per battezzare e dare benedizione enorme e così il Signore volte della compassione ferma questo grande ciclone e il Signore mi ha detto in un istante un secco no mi hanno girato le spalle mi hanno abbandonato non hanno cercato più la mia faccia e non li aiuterò perciò non mi dire più nulla riguardo a quello che starà succedendo fa breve sono rimasto proprio secco volevo piangere dirottamente ma mi sono frenato perché avevo ancora un'altra domanda a fare a Cristo Gesù la ultima domanda e poi non mi alzardavo più di parlare al Maestro perché Lui sa fare le cose molto meglio di me e di voi ho detto Maestro ti ricordi quando tu hai detto che fa piovere sopra gli giusti e gli ingiusti e lui mi disse sì e io gli disse maestro maestro vi sono giusti e ingiusti in quella città tu non farai perire i giusti per gli ingiusti e lui mi ha detto voltati da parte del nord dove c'è il ciclone e dagli un grande soffio è come se fosse il mio soffio che va direttamente nel centro dell'occhio del ciclone e lo spezzerai in tre parti riducerai la velocità del vento da 450 chilometri a 100 chilometri orari e così ho fatto come il maestro mi ha detto mi sono girato verso il nord ho fatto un grande un grande soffio con la mia bocca e subito dopo nella televisione mentre che guardavo hanno detto il ciclone si è rotto in tre parti non ha più la potenza e furore di 450 chilometri ma ha ridotto a 100 chilometri ha passato per la città di Kent ha fatto il minimo da mezzo non è morto nessuno nemmeno una persona e si è incominciato a scemare completamente il ciclone a zero questo è quello che l'opera di Dio fa come potrai tu convincere il cuore di Dio quando ci sono delle circostanze molto critiche come parlerai tuo maestro per poter far capire che noi abbiamo bisogno di lui come farai a presentarti davanti un re del re è un signore del signore in cui ha creato tutto l'universo tutto quello che ci sta in esso e la tua vita è nelle sue mani è un bilancio e se lui la manda giù la tua vita è completamente finita e non c'è nessuno che ti potrà aiutare nessuno più perché lui è il padrone della tua vita lui ti ha creato e ti ha dato l'alito della vita e se lui toglie l'alito della tua vita tu sei completamente morto ma io non parlo di una morte questa morte che è soltanto passeggera ma io parlo della seconda morte la separazione fra te e Dio una morte che sarà per l'eternità sempre in quello fuoco nello stagno di fuoco in cui il verme non muore non si spegne mai il fuoco senti un consiglio Gesù ti ama tanto e non vuole che tu perisci lui ti vuole dare vita eterna vedete in questi giorni Napoli Siracusa Avola Canegattine Napoli Belgio Germania Toscana tutti sotto un'alluvione terribile questi sono gli ultimi tempi e questi questo è nulla il cielo scrollerà perché i segni accompagneranno la sua venuta e lui verrà dal cielo non verrà dalla terra non guardate giù a terra perché Gesù non verrà dalla terra quello che sta nella terra è il diavolo e le sue demonie guardate il cielo perché Gesù verrà dal cielo sopra le nuvole lui disse ai suoi discepoli così come mi vedete andare in cielo io verò a voi alla medesima maniera i molti in Cristo riusciteranno e saranno con me già nella nuvola e voi che siete ancora viventi sulla terra sarete cambiati in un parte d'occhio e tutti ci incontreremo in quella nuvola e saleremo e partiremo verso la nuova Gerusalemme in cui l'architetto è stato il Dio suo padre e costruttore è stato Gesù perché Gesù disse ai suoi discepoli io vado a prepararvi un luogo e se lui è andato a prepararci un luogo significa che lui ha preparato questa bella città la nuova Gerusalemme da cielo e dove sarò io sarete anche voi e poi la cosa più bella e più meravigliosa che poi disse che noi saremo simili a lui simili a maestro simili a re del re signore del signore un corpo uguale a Cristo Gesù un corpo incorruttibile un corpo meraviglioso un corpo veramente disegnato sin dal principio del mondo quando crea Adamo ed Eva tu hai bisogno che ti arrendi a Cristo Gesù perché se non ti arrendi a Cristo Gesù allora avrai le paure in questi ultimi giorni una paura che ti mangerà come la cangarena perché penserai e chissà verrà un insumano dove vivo io chissà se verrà un grande terremoto come è successo ad Aguila chissà che verrà insumano come è successo in Giappone dove io vivo e tu avrai sempre paura perché non hai fiducia nel futuro quello che è il futuro che Dio ha disegnato attraverso Gesù Cristo e attraverso lo Spirito Santo qual è il tuo futuro dove ti appoggi tu per il tuo avvenire spirituale forse sei un religioso la religione non ti porterà in cielo i religiosi hanno sempre combinato guai non hanno fatto altro sempre di separare le chiese e di far scappare tutte le pecorelle smariti che adesso in questi ultimi tempi il Signore li andrà a raccogliere da tutte le parti del mondo e li porterà di nuovo nel suo ovile le religioni le denominazioni traduzioni di uomini che hanno inculcato in una falsa dottrina sono stati coloro che hanno sempre veramente fatto delle persone un pezzaio e hanno martellato le persone con un grande martello ed hanno usato la Bibbia come un grande martello e hanno martellato queste pecorelle li hanno frustati li hanno torturati e lasciati abbandonati a morire lì senza che nessuno li aiuterebbe più ma ci sono oggi ascoltatevi ci sono i buoni samaritani ancora oggi e che stanno raccogliendo e stanno fasciando stanno mettere dell'olio dell'unzione dello spirito santo e stanno dando un grande avvenire a queste pecorelle che sono state bastonate martellate dell'attroduzione della religione e che non hanno mai fatto vedere il vero amore e il sincero amore che Cristo Gesù ha lasciato perché non hanno amato mai il prossimo ma hanno amato loro stessi e di fatti le chiese oggi sono tutte confuse nessuno più crede a nessuno perché non vedono che i frutti dello spirito parlano da sé i frutti dello spirito sono e sono stati dati da Dio e lì nel frutto si vede l'albero se l'albero non ha frutti il signore non se ne serve di lui o cerca di camuffarsi di avere frutti come lo fa il diavolo voi le vedrete perché i frutti sono marci non sono genuini e con passare i tempi cadranno a terra come tanta spazzatura e sarà capestata da Cristo Gesù questo frutto marcio perciò non sentite nessuno ascoltate soltanto Cristo Gesù il maestro lui ha una bocca per parlare lui ha gli occhi per vedere lui ha gli orecchi per ascoltare non c'è nessuno mediatore all'infuore di Cristo Gesù non esiste e non esisterà anche che durante la grande tribolazione ogni sette anni di falsa pace cercheranno di camuffare la Trinità con la bestia il passo profeta e l'anticristo cercheranno di camuffare la Trinità e voi unitari che non credete la Trinità siete completamente fuori dottrina perché vedi che anche il diavolo camufferà con la bestia con il passo profeta e l'anticristo la Trinità perché sa che dal principio esisteva la Trinità il diavolo la conosceva abbastanza la Trinità e lui cercherà di camuffarsi per farsi vedere che lui è Dio ma non è Dio del cielo è Dio dell'inferno e si conoscerà perché perseguirà la Chiesa durante i secondi tre anni e mezzo della falsa pace la mia preghiera va a voi oggi con mio cuore aperto davanti a Cristo Gesù che vi preparate per il ritorno di Cristo Gesù non guardare né a destra non guardare a sinistra se la suona tromba non scendere a prendere il tuo mantello se la tromba suona non c'è niente che tu ti porti con te l'unica cosa l'unica cosa che ti porti con te è l'amore di Cristo Gesù il resto rimanerà tutto qui sia il tuo cuore ripieno dell'olio dello Spirito Santo e sia veramente il tuo cuore ripieno dell'amore e del sangue di Cristo Gesù la vera e buona testimonianza che ti porterà in paradiso tu potrai fare tantissime preghiere meravigliose e io non sono contro la preghiera anzi io sono un uomo di preghiera e mi piace la preghiera ma non metto l'enfasi nella preghiera perché c'è uno più alto della preghiera è Cristo Gesù c'è uno più alto di quello che ha creato il mondo l'universo e tutte le cose che vi sono in essa e è Cristo Gesù c'è uno che ha creato la nuova Gerusalemme fatta d'oro di pelle di diamanti di zafferi eppure vi è uno al di sopra della nuova Gerusalemme ed è Cristo Gesù Cristo Gesù deve essere in prima linea del tuo cuore al centro del tuo cuore e fa sì che la sua verità e la sua parola dimori in te nel tuo cuore al centro del tuo cuore e quando vedi tutti questi segni che accompagnano la sua venuta abbi fede cerca il Signore con tutto il cuore non avere paura perché la tua vita sta bene nelle mani del Signore e il tuo futuro è già stato approvato sigillato dell'anello dell'Iddio Onnipotente l'unico sigello l'unico anello che quando lui mette l'impronta nessun altro potrà scangellare questo gello nessuno ascoltami se sei forse per la prima volta che mi ascolti e che ti stai trovando in una maniera confusa come in Italia l'economia il lavoro peggiorano tutte le cose ma si deve avverare che l'anticristo lui la prima cosa che verrà a fare proprio in tutto il mondo è di ristabilire l'economia che è diventata veramente straccione fatta a pezzi consumata e divorata che i primi ministri o i presidenti non la possono riparare questa sarà la prima astuce che lui userà per poter portare l'economia mondiale un'altra volta a gonfie vele e già con questo che farà lui si farà vedere che è un uomo potente in economia ma sapete una cosa quelli che tutti non hanno potuto mai capire che vi è una nazione che sta brillantemente portando avanti l'economia di forza in forza ed è l'Australia e l'avversario prenderà e copierà l'economia australiana per poter usarla in tutto il mondo e l'Australia è coinvolta con la riforma dell'economia mondiale di questo anticristo figlio del diavolo forse non l'avete mai sentito dire queste cose e io non l'ho sentito dire mai di nessuno e non mi oserei di dirle come bugia perché parlo in verità e in verità quello che il Signore mi rivela e quello che io do e metto in questo YouTube non posso mai permettermi di dare una profezia che non è da parte mia perché non mi piace dire delle bugie per il figliolo di Dio i bugie non devono esistere l'economia lui la farà sviluppare il 100% di quello che sta succedendo oggi in tutto il mondo e lo farà breve ditemi voi perché l'Australia una nazione di 20 milioni di persone forse adesso saranno 22 milioni di persone proprio niente l'Australia è quasi come tutta New York la popolazione di New York arriva a tutta la popolazione dell'Australia e l'Australia è quasi 11 volte più grande dell'Italia 20 milioni 22 milioni di persone e l'Australia ha superato il dollaro australiano al di sopra del dollaro americano dove ci sono 440 milioni di persone ditemi il perché io lo so il perché perché l'economia australiana deve essere una grande forma affinché l'anticristo se ne appropria e la userà per poter portarla in tutto il mondo e ci riuscirà ci riuscirà molto bene però i primi tre anni e mezzo saranno tutto luce e niente tenebre ma i secondi tre anni e mezzo lui si farà vedere che non è Dio del cielo ma è un Dio della terra un Dio del fango un Dio dello stagno di fuoco e lui farà una terza guerra mondiale atomica e se tu sarai lasciato dietro da Cristo Gesù dovrai affrontare la guerra atomica e subito dopo dovrai affrontare di non ricevere il marcio della bestia 666 o sarai decapitato e la decapitazione è qualcosa di orribile usato della Francia nel 1843 53 che uccidevano le regine e il re alla ghigliottina non è una cosa tanto piacevole ma stai pensando tu di poter scampare a questa grande tribolazione e di fatti trovare pronto con la lampada accesa con l'olio pieno e che sarai rapito con Cristo Gesù nel cielo in paradiso non vedrai questi sette anni in cui la parola di Dio dice che vi saranno fitte tenebre che non furono mai viste sulla terra la luna diventerà sangue e il sole si oscurerà terribili giorni e saranno anche abbreviati perché i santi non accenteranno il marchio di Cristo il marchio della bestia e saranno scampati dalla morte eterna e anche per loro vi sarà un'abbreviazione come dice Daniele 3 che una settimana sarà come un giorno sono sette sette anni molti corti per il diavolo non fatevi vincere della tentazione perché lui ne sederà molto molti anche gli eletti se è possibile non gli dateci ascolto assolutamente ma camminate con Cristo Gesù alzate gli occhi vostri a cielo dove il Signore verrà e non vi fate convincere del nemico col peccato perché il salario del peccato è la morte e dono di Dio è vita eterna quale sceglierai tu oggi quando ascolterai questo video dove metterai la tua anima forse creerai un destino da te stesso e andrai direttamente all'inferno e sarai separato per l'eternità e lì striderai con i denti tutta l'eternità senza che nessuno più ti potrà aiutare oggi è tempo della grazia non rifiutare ciò che Dio ti offre non fare come i tempi di Noè che per centoventi anni Noè predicò l'Evangelo e nessuno nessuno lo ascoltò finché l'alluvione venne e tutti perirono sotto le acque tutti si spammò solo la famiglia di Noè e tutti gli animali perciò dai il tuo destino nelle mani di Cristo Gesù per quando tu lo darai nelle mani di Cristo Gesù in questi tempi a venire che ancora è principio del dolore della donna che patrisce non avrai paura la tua vita è nelle mani del Signore il tuo futuro è eccellente è già prenotato del sangue e la testimonianza di Cristo Gesù perché Lui solo ha il potere di darti la vita eterna non ti fare coinvolgere che dicono che se non ti battenzi non avrai la vita eterna e che se avrai lo Spirito Santo avrai la vita eterna e se predichi veramente eccellente avrai la vita eterna se fai in una chiesa grande grandissima avrai la vita eterna tutte queste cose il Signore non le ha nemmeno calcolate un giorno quando era in Gerusalemme ma il suo sangue grida salvezza la sua testimonianza di un vero uomo figlio di Davide Re del Re e Signore dei Signori che signoreggia lì su un suo trono Lui ti vuole dare un futuro e una vita eterna con Lui seduta alla sua destra seduta alla destra del Re del Re Signore dei Signori per l'eternità e non ti vuole vedere in quello stagno di fuoco dove andranno tutti i demoni e il diavolo Lui lo creò quello per loro non per te non per me e ci ascoltami dai la vita il tuo destino a Cristo Gesù non lasciare che questa offerta vola via oggi della tua vita perché non sai il giorno che verrà i tempi sono accorciati e io penso che il Signore ha fatto i suoi progetti già di come dovrà muovere il suo destino della chiusura della chiusura di questo universo lui ha disegnato già ogni giorno che passa ogni mese che passa ogni anno che passa le profezie si stanno avverando tutti tutti e quando il numero esatto che Lui ha predestinato sarà compiuto e ogni ogni persona avrà ascoltato l'Evangelo allora il Signore verrà e ritornerà nessuno sa quando ritorna Lui verrà come un ladro di notte senza che nessuno se l'aspetta è una cosa che proprio mi fa pensare che quando Lui verrà tutte le cose marciano uguali senza nessun cambiamento e Lui verrà rapirà la sua chiesa la porterà in cielo sarai tu lì io non voglio rispondere per te perché non posso rispondere per te ma se lo potrei fare rispondere per te io direi sì Signore per la tua testimonianza e il tuo sangue mi troverai mi troverò lì con te ma non posso rispondere per te e se lo potrei farlo farei per tutto il mondo e Dio vi benedica vi dà una serata meravigliosa piena di benedizione di benedizione e spero a meno che quando ascolterate questo video il Signore potrà toccare l'intimo del cuore della tua anima e della tua mente e ti potrai veramente arrendere a Cristo Gesù il Dio vi benedice copia semente di benedizione понял pulire Grazie.